Murer, Malisani, Segoni, Tartaglione, ci siamo tutti? Mi pare di sì. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 4.3 Colletti. Parere contrario Commissione Governo Relattrice Forza Italia. Favorevole Relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Non vedo altre mani alzate. Allora dall'osso gli annuzzi Cristian, Latronico. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo alla votazione dell'articolo 4. È aperta la votazione. Ci siamo. Pisicchio. Patriarca. Cuperlo. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'emendamento 4.01 Colletti. Parere contrario. Onorevole Ferraresi. Grazie Presidente per annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie. Onorevole Colletti. Grazie Presidente. Qui abbiamo l'ultima opportunità per modificare il reato di traffico di influenze illecite, il quale attualmente soggiace a una pena troppo bassa. troppo bassa rispetto al disvalore che dovrebbe avere nel nostro ordinamento, troppo bassa rispetto al millantato credito, troppo bassa rispetto al potere che hanno certi mediatori attualmente. attualmente. Questo perché ogni qualvolta il pubblico si priva...